Ci sostiamo a Silvi, anche in questo caso saranno tre i candidati in corsa per la carica di sindaco. Lorenzo Valeriani. Saranno tre alla fine i candidati per la carica di sindaco a Silvi nelle giornate del 14 e 15 maggio. Andrea Scordella, primo cittadinuscente, sarà appoggiato nuovamente da una coalizione di centrodestra per un totale di 5 liste e 80 candidati consiglieri. Per il centrosinistra e Movimento 5 Stelle ci sarà Giuseppe Gentile, con quattro liste a supporto e 57 candidati consiglieri. Massimo Blasiotti, ex Movimento 5 Stelle, sarà invece il candidato di una coalizione civica composta da due liste, ognuna con 16 candidati a supporto. Nelle ultime ore si paventava la presentazione di una quarta lista sorpresa, ma alla fine i pronostici sugli effettivi protagonisti di questa tornata elettorale sono stati rispettati. Intanto, nella sala consigliare del Comune Costiero c'è già chi festeggia senza attendere l'esito delle urne.